E' finito 2-1 per la Sicola Leonzio e il derby con il Gela, un derby giocato col coltello tra i denti dalle due formazioni che volevano assolutamente vincere. Alla fine sono stati padroni di casa a brindare, interrompendo la sequela dei risultati utili consecutivi dei gelesi, quattro vittorie ed un pareggio. Ma è stato un derby che l'arbitro Alberto Catastini di Pisa ha macchiato per alcune decisioni ritenute incomprensibili. Non ha usato lo stesso metodo di giudizio in due episodi fotocopia. Alla tredicesimo del primo tempo ha espulso il difensore biancazzurro Campanaro, Reo, di avere commesso fallo in aria ai danni di Randis. Espulsione e rigore che ci stanno, ma al settantatresimo in area lentinese è stato atterrato Bonanno. Rigore secolo santo, ma solo ammunizione per il difensore Cacciola. Episodi che alla fine della contesa hanno pesato e il tecnico dei gelesi Pietro Infantino lo ha detto a chiara lettere senza giri di parole. La cronaca parte subito forte la squadra allenata da Francesco Cozza. Alla terzo minuto Randis colpisce il palo, bravissimo Seitta a negare il gol a Marino. Dieci minuti dopo arriva il rigore per la Leonzio. Campanaro, come dicevamo, atterra Randis, cartellino rosso. Dal dischetto lo stesso Randis fa 1-0. Il Gela in Dici Uomini tenta subito una reazione. Al diciottesimo il portiere Biondi si supera sul calcio di punizione battuto da Kosovan. E il Gela a fare la partita. Al trentaduesimo è il palo a negare la gioia del gol a Montalbano. Nel secondo tempo c'è un gol annullato giustamente alla Sicula per un fallo in area biancazzurra. Al ventottesimo l'episodio è chiave. Cacciola commette fallo su Buonanno e penalty e ci starebbe anche il rosso. Ma il direttore di gara estrae solo il giallo. Dai 11 metri Montalbano non fallisce 1-1. A quel punto i padroni di casa cercano il gol Vittoria. Ancora bravo ed attento il portiere Saitta. Altrettanto bravo l'estremo difensore Biondi sul piazzato di Buonanno. Sul capovolgimento di fronte arriva il 2-1 dei Lentinesi. Lo segna ad otto minuti dalla fine Foderaro. Buonanno ha sui piedi la palla buona per il pari ma la conclusione del numero 9 termina alta. Finisce 2-1. In classifica i giolesi sono stati superati dalla Leonzio. Il team del presidente Tuccio ha però una partita da recuperare. Quella con la Turris prevista per giovedì 22 dicembre. Domenica si torna in campo. Il Gela al Presti se la vedrà con la Sarnese squadra che si trova in piena zona play-out. Quello di ieri intendiamolo un incidente di percorso. Il Gela è vivo e l'ho ampiamente dimostrato ieri sul campo siracusano e per giunta in 10 uomini.